Se hai un'attività ristorativa da sporto e consegna a domicilio e sei completamente schiavo delle piattaforme di delivery, se sei stanco del servizio scadente da parte dei fattorini delle piattaforme che si occupano della consegna e non ne puoi più di regalare il 35% del tuo incasso a qualcuno a cui non importa nulla della tua attività, allora, specialmente tu, non puoi perderti questo video. Alessio è un pizzaiolo di Torino che l'ultimo anno ha versato oltre 11.000 euro di commissioni e in più delle volte le pizze sono arrivate fredde. Come se tutto questo non bastasse, Alessio ha un ulteriore problema. Non raccoglie i dati dei clienti che ordinano. Infatti, utilizzando i servizi di delivery, il cliente è solo un codice. Il loro interesse è far ordinare il cliente tramite la piattaforma, incassando le commissioni, nascondendo i dati del cliente, così da impedire ad Alessio di costruire il suo database clienti per poterli fidelizzare. L'esatto opposto di ciò che vuole ottenere ogni ristoratore. Alessio è sconfortato perché schiavo di quei servizi. Poi ha scoperto qualcosa di completamente nuovo. MyFood Delivery MyFood Delivery è la prima app per il delivery del tuo locale che ti libera dalle piattaforme anche se ne sei completamente schiavo. I tuoi clienti faranno l'ordine dalla tua app personalizzata e tu li riceverai comodamente sul tablet presente nel tuo locale. Inoltre, grazie a un'app dedicata ai fattorini, ogni rider avrà a portata di smartphone i dati del cliente e i dettagli dell'ordine da consegnare, così da rendere tutto più semplice e veloce. A differenza delle tante altre app minori che si limitano solo a raccogliere ordini, il tuo cliente riuscirà a vedere in tempo reale gli spostamenti del fattorino. Anche tu, nel tuo locale, riuscirai a vedere dove si trova il fattorino, sapendo esattamente quando rientrerà, così da essere pronto per la prossima consegna. Con MyFood Delivery non avrai commissioni da pagare e potrai costruire il tuo database clienti per azioni di marketing automatico, così da aumentare il tuo fatturato. Fai come Alessio, dimentica commissioni salate e fidelizza i clienti con la tua app senza affidarti più alle piattaforme. Clicca qui per avere maggiori informazioni.